DOLLARO YEN ANALISI GIORNALIERA 15 APRILE 2015 FXEMPIRE.IT Come potete vedere durante la sessione di martedì la coppia DOLLARO YEN si muove in ribasso rompendo al di sotto della maniglia dei 120. Tuttavia crediamo che gli acquirenti non tarderanno a fare il loro ingresso sul mercato, ancor più quando il dollaro statunitense è indubbiamente la valuta favorita del momento a livello mondiale. In ultima analisi riteniamo ancora che l'obiettivo ultimo di questa coppia si posizioni su quota 121.